Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nel Chiostro. Oggi qui per raccontarvi la storia di Elona. Ecco, vedete a questo indirizzo, in sovrimpressione, indirizzo di posta elettronica, tanti raccontano la loro storia. Ecco, continuate a raccontarci come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Elona ci segue dagli Stati Uniti, sicuramente attraverso il nostro canale YouTube Padre Pio TV, dove ha visto Un minuto con Padre Pio che ritorna anche nella sua storia. Nata in Albania, ci scrive, nei primi anni della mia vita l'Albania era sotto il regime comunista. La mia famiglia non era cattolica, ma credevamo in Dio. Avevo trovato una piccola Bibbia, ci racconta a casa di mio zio. Ricordo che a quell'età iniziai a leggerla, avevo circa 7-8 anni, e diventai molto curiosa. Poi il regime comunista crollò e quindi arrivò la democrazia, arrivarono anche i primi religiosi in Albania. Ricordo che guardai il film di Zeffirelli, che mi aiutò tanto a comprendere meglio anche la vita di Gesù. Era una bambina, ma grazie a questo film mi sono sentita molto legata a lui. Poi ho deciso così di seguirlo. In quegli anni mi sono avvicinata alla chiesa evangelista americana. Gli americani furono i primi che arrivarono. Ma poi, finito il liceo, le medie, avevo deciso di andare in Italia, di studiare l'università in Italia. Prima di partire mi venne una forte ansia, una forte ansia per il mio futuro, una forte ansia per la mia famiglia che lasciavo. Iniziai comunque la mia vita da studente in Italia. Avevo sentito parlare di Padre Pio già in Albania, da qualche programma TV, ma non sapevo esattamente chi fosse, che cosa facesse. Una mia amica che viaggiava con me, un giorno mi regalò un libro. Un libro dove, nell'immagine di copertina, trovai Padre Pio che dormiva sul letto. Non so perché, ma mi faceva troppo paura questa immagine, perché sembrava quasi un defunto. Allora cercavo di evitare in tutti i modi questo libro, anche se poi lo tenevo con me, ma avevo paura di leggere. Un giorno lo restituì. Mi tornò l'ansia che avevo dentro di me. Cercavo sempre di nasconderla, anche quando tornavo in Albania dalla mia famiglia. Ma nel frattempo mi ero allontanata anche dalla chiesa evangelista. Credevo in Dio, ma non seguivo nessuna chiesa e nessuna religione. Ogni volta che tornavo in Albania per l'estate stavo veramente male, un'ansia che mi portò alla depressione. Pensavo che non avevo più speranze, che nemmeno Dio mi potesse aiutare. Mi sentivo un caso perso, che nemmeno Dio voleva bene, perché non voleva proprio aiutare. Allora tornando dall'estate verso la mia città dove abitavo, Nord Italia, allora passando in autobus per la Puglia mi fermai in un autogrill, ricordo che ero molto depressa, pensavo a non avere più speranze per la mia vita. Allora in quel negozio trovai un piccolo rosario con una foto di Padre Pio in una piccola scatola rotonda. L'ha presi e percepì un forte odore, un forte profumo di rose. Da quel momento questa immagine e quel volto buono mi diede una grande speranza. Così tornai a casa e incontrai quell'amica che stranamente mi disse che aveva ritrovato quel libro di Padre Pio, che io avevo sempre evitato per paura, me lo diede e mi disse che l'aveva ritrovato a casa sua e pensava addirittura che fosse mio. Da quel momento ho capito che c'era qualcosa di speciale e questi eventi non erano un caso, ma che Padre Pio voleva aiutarmi. Presi il libro e iniziai a leggerlo, avevo così tanta sete di sapere su di lui e ho letto quel libro in pochissimo tempo. Il suo libro, il suo rosario, lo tenevo sempre con me, mi aiutavano nei momenti difficili quando l'ansia mi tornava. Decisi di fare un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con mio fratello, la mia amica, per conoscere da vicino quei luoghi dove era lui vissuto e anche per ringraziarlo. Mi era tornata la voglia di vivere, la voglia e la forza di vivere. Da quel momento non mi sono più allontanata da lui. Era il 2005 quando sono andata per la prima volta a San Giovanni Rotondo e da allora Padre Pio è sempre stato nel mio cuore e nella mia vita. Non dico che non ho più avuto momenti difficili dopo questo incontro, ma tutto è stato più facile perché sentivo la sua presenza accanto. Nel 2019 finalmente mi sono battezzata nella Chiesa Cattolica, quindi negli Stati Uniti, perché non ero battezzata e credo che Padre Pio mi ha portato verso questo cammino e verso la preghiera attraverso il rosario, il quale prima non sapevo neanche cosa fosse e come pregarlo. Appunto non essendo cresciuta con la tradizione cattolica, lo sentivo mio. Con l'aiuto di Padre Pio ho iniziato a pregare, a recitare il rosario e adesso è diventato parte della mia vita quotidiana, lo recito tutti i giorni. Quando poi ho lasciato l'Italia, sono venuta qui negli Stati Uniti per cercare un lavoro, ero in un momento un po' difficile, stavo cercando di trovare quel lavoro che sempre desideravo. Padre Pio mi è apparso in sogno una notte che mi abbracciava e non mi ricordo le parole o se mi ha parlato, ma ricordo bene quell'abbraccio e dopo quel sogno tutto è diventato bello per me. Ho trovato un lavoro, quel lavoro che mi piace, ho conosciuto mio marito e adesso abbiamo due bellissimi figli. Penso che Padre Pio mi segue in ogni passo della mia vita e io lo tengo sempre con me. Mio figlio piccolino lo chiama nonno perché ce l'abbiamo nella stanza, un quadro, ed è con noi. Sin da quando era piccolo glielo facevo sempre vedere così anche baciare la sua immagine. Ringrazio Padre Pio perché mi ha scelta e mi sento una sua figlia spirituale.